L'augurio sincero di una Pasqua serena, di una Pasqua di riflessione. Riflettendo dobbiamo essere consapevoli della sofferenza che come Tarantini viviamo, ma al contempo dobbiamo avere la forza di risorgere. Ne abbiamo tutte le capacità, tutte le potenzialità. Dipende soltanto da noi. Ecco, la passione di Cristo, la sua sofferenza, deve essere un motivo di strone, un punto di partenza, sia per chi è credente, sia per chi non lo è. Risorgere dalla sofferenza in cui versiamo, imparando ad amare noi stessi, imparando ad amare il nostro prossimo, imparando ad amare i nostri figli, i nostri diritti, per uscire da questo stato di schiavitù, di sofferenza. Questo è il senso civile della risurrezione dei Tarantini. Un augurio sincero soprattutto a chi soffre, affinché in questo giorno il barlume della speranza non si perda mai. E' quel Cristo risorto, davvero ispiri la speranza in ciascuno di noi. Con il cuore. Buona Pasqua a tutti.